Quando io dico che un comune cittadino non può arrestare un borseggiatore non sto dicendo che non si può difendere. Alla fine del video infatti ti spiego come ci si può difendere in casi di questo tipo però dobbiamo fare prima un po' di teoria spicciola soprattutto qualche considerazione in più rispetto al video di ieri che ha creato un po' di scompiglio e confusione. La premessa è sempre la stessa non puoi bloccare un borseggiatore come ha fatto questo turista a Venezia perché questa operazione anche se non vedi manette è un vero e proprio arresto in flagranza di reato che un privato cittadino non può operare nelle ipotesi di furto con destrezza che è l'attività attivica del borseggiatore ed era proprio la vicenda che commentavamo rispetto al turista e della borseggiatrice di Venezia. Ora quando un borseggiatore è in azione con una certa abilità appunto con destrezza ti mette le mani in borsa per derubarti del telefono del portafogli o di altri oggetti di valore e la legge non consente in casi come questi al cittadino qualunque di arrestare in flagranza il ladro e ti spiego anche il perché provando a riportarti le norme a cui dobbiamo fare riferimento. Il cittadino può arrestare un malvivente nelle ipotesi previste dall'articolo 383 del codice di procedura penale. E allora andiamocelo a leggere questo articolo. Oh eccolo qua. Nei casi previsti dall'articolo 380 ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio. Quindi quali sono le due condizioni? La prima è la perseguibilità di ufficio. La seconda è la sussistenza dei casi previsti dall'articolo 380. E allora dobbiamo fare un ulteriore sforzo quello di andare a vedere questo articolo 380 così ci togliamo pure quest'altro dubbio. Vediamo già dal titolo dell'articolo che questo fa menzione ai casi in cui l'arresto è obbligatorio in flagranza. Quindi le due condizioni sono, anzi le tre condizioni sono la flagranza, la perseguibilità d'ufficio ed infine che quel reato preveda l'arresto obbligatorio in flagranza. Il furto con destrezza prevede l'arresto obbligatorio in flagranza? Andiamo a vedere. Dobbiamo fare riferimento alla lettera E del comma 2 dell'articolo 380. Qui ci dice che in caso di furto l'arresto è obbligatorio quando ricorre la circostanza aggravante previsto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977 numero 533. Parliamo di furti di armi esplosive eccetera roba che non ci riguarda. Ota l'una delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 primo comma numeri 2 prima ipotesi 3 5 nonché 7 bis del codice penale. La destrezza è invece una specifica aggravante del delitto di furto ma è prevista dall'articolo 4 del comma 2 dell'articolo 625 quindi non è menzionata tra le ipotesi in cui per il furto debba procedersi obbligatoriamente all'arresto in flagranza. In questi casi infatti l'arresto è solo facoltativo. È un po' ingarbugliata la cosa me ne rendo conto ma così scrivono i legislatori e non ci possiamo fare niente ma spero che almeno in questo modo possa aver chiarito che se noi leggiamo il 383 in combinato con l'articolo 380 nelle ipotesi di furto con destrezza siamo al di fuori dei casi in cui il privato cittadino possa arrestare un borseggiatore che si sia limitato a sottrarre qualcosa dalla nostra borsa. E allora giustamente decine e decine di commenti dicevano ma scusa e allora come mi posso difendere se non lo posso bloccare? Ragazzi ma un conto è bloccare qualcuno come ha fatto questo turista, altro invece è provare a riprendersi la propria roba. Noi non dobbiamo dimenticare che il nostro ordinamento penale è un sistema complesso che per certi versi è anche complicato ma nelle pieghe di questo sistema possiamo trovare la soluzione. È impensabile che il legislatore ti dica che tu non puoi agire a tutela del tuo patrimonio e quindi difenderti. E infatti non ce lo dice, anzi ci dà una norma che è l'articolo 52 del codice penale, la legittima difesa, che chiaro e tondo ammette la possibilità di reagire ad un'offesa illegittima subita nei limiti della proporzione e solo a tutela di quel diritto. Quindi io non la posso arrestare, cioè non posso tenerla lì ferma, ma posso certamente agire a tutela dei miei interessi, dei miei diritti, non andando oltre quelli che sono i limiti imposti dallo stesso articolo 52. Per cui è legittimo provare a recuperare i propri beni ma poi sei costretto a lasciare andare il borseggiatore per evitare di operare quello che tutti abbiamo capito ormai sarebbe un arresto illegittimo. Nel video che ho proposto io non ho mai fatto riferimento all'aspetto della legittima difesa e quindi alla possibilità comunque consentita di recuperare i propri oggetti e questo ha certamente generato un po' di confusione. Peraltro faccio solo un inciso, se nel tentativo di recuperare gli oggetti dovessimo subire minacce o violenza da parte del borseggiatore, quella condotta da furto con destrezza, lo dico in maniera spicciola, si trasforma in rapina impropria. Per la rapina, propria impropria che sia, è invece ipotizzabile l'arresto da parte del cittadino. Quindi poi a quel punto lo blocchi, chiami immediatamente la polizia e il nostro operato sarà completamente legittimo e nessuno ci potrà contestare nulla. Spero perciò a questo punto che si siano dissipate le ombre dei dubbi e delle incertezze che c'erano su questo argomento. È il diritto penale.